ciao a tutti allora aggiornamento sapete forse fine di settembre devo fare un altro viaggio e andare a finalizzare alcuni step della nostra roadmap quindi volevo avvisare tutti gli amici quindi questo video poi lo pubblicherò anche nei miei canali così che chi ancora non sa bene non conosce quello che stiamo facendo avrà la possibilità di saperne di più e partecipare quindi la prima cosa che volevo precisare ricordare in linea di massima in sintesi poi vi invito a guardare i vari altri contenuti a scrivermi metterò qualche informazione qua in descrizione se state guardando da youtube altrimenti se siete sul canale di telegram potete tranquillamente commentare e vi risponderò o io o un altro dei ragazzi del team per qualunque domanda poi troverete i messaggi fissati sempre nel canale di telegram con moltissima roba iniziamo senza perdere tempo come funziona è semplice anche se ultimamente oggi mi fanno delle domande probabilmente non tutti hanno voglia di magari di leggersi qualche pappardella di roba in ogni caso il sistema è un sistema che stiamo approntando e concependo da molto tempo ho depositato dei brevetti su questo sistema l'ho fatto anche verificare nei tavoli tecnici è perfettamente applicabile stiamo piuttosto invece estendendo il sistema visto che è così funzionale anche ad altre realtà che nel frattempo in questi ultimi due anni stanno diventando emergenti e oltre chiaramente alle realtà istituzionali cioè comuni enti parco eccetera in buona sostanza il gioco prevede di sfruttare un procedimento che è abbastanza usato oggi che è la tokenizzazione quindi fondamentalmente si usa la blockchain attraverso la blockchain si creano dei token delle monete digitali scritte sulla blockchain quindi non cancellabili trasferibili eccetera eccetera attraverso i nostri wallet e queste monete normalmente vi sono chiaramente i coin normali che hanno un valore relativo un valore legato a quanto sono apprezzati dal pubblico tra cui il più famoso sicuramente il bitcoin ethereum e tutti questi poi ci sono migliaia di piccole monetine monetone che hanno a che fare con le scarpe della Barbie hanno a che fare con qualunque cosa ecco sapete come sono quindi capirete perché ho voluto applicare in forma più concreta questa possibilità perché la tecnologia è un qualcosa che sta prendendo una brutta piega ma di fatto la tecnologia non ha colpa il martello non ha colpa se ti do una martellata o se ci pianto un chiodo o se scolpisco una bellissima scultura ok quindi vi sono elementi che sono concepiti apposta per essere dannosi come può essere una pistola ma allo stesso tempo vi sono altre come la blockchain che è un registro dunque bando alle ciance il token che stiamo approntando in realtà abbiamo già mintato 500.000 pre token quindi dei Gaian preventivi i pre Gaian che saranno oggetto della prevendita di ottobre adesso entriamo nel merito in ogni caso ognuno di questi pezzettini vediamo un po se riesco a condividervi qualche cosa ciascuno di questi pezzettini è legato ad un pezzo di terra ogni token sapete che hanno il controvalore token quando sono stable quindi perché è stable perché non può oscillare il suo valore non può oscillare adesso vi faccio vedere al volo un'infografica se me lo consentite quindi vado a condividere lo schermo direttamente qui quindi vedete spero lo schermo questo è un piccolo short che stiamo facendo circolare sui canali social abbiamo anche la nuova account instagram stiamo lavorando anche su nuovi account youtube in buona sostanza quindi abbiamo il pre sale ad ottobre il Gaian vedete 500.000 token saranno messi a disposizione del pubblico a prezzo fortemente scontato come sempre accade nelle prevendite quindi a 59 centesimi di dollaro invece che a un dollaro stiamo usando il dollaro perché non so se vi siete accorti ma l'euro sta precipitando e quindi ci andrebbe un pochino a sballare o rendere più variabili le nostre situazioni quindi torniamo un attimo a noi vi stavo dicendo quindi che abbiamo il pezzo di terra che si va a collegare adesso vi faccio vedere un'immagine eccola qua questa è parte di un'altra infografica che sta facendo un altro argonauta quindi un altro del team voi sapete che noi che stiamo lavorando il team che sta lavorando ci chiamiamo scherzosamente argonauti e tra gli argonauti c'è anche Danilo che ci sta regalando queste elaborazioni in stile animazione vedete qua dalla mappa a sinistra noi individuiamo un terreno sono terreni che noi andiamo ad acquistare dopo ampia selezione e rilievi analisi e perizie per andare a verificare che siano da un lato dal punto di vista tributario immobiliare catastale tutto a posto e allo stesso tempo che abbiano un prezzo di mercato che sia più basso del prezzo di mercato quindi che siano degli affari ce ne sono vanno scovati abbiamo perso anni sono anni che giriamo e guardiamo terreni questo in particolare su cui abbiamo puntato il nostro occhio che andremo ad acquistare a fine mese è un terreno molto grande molto bello vedete poi ve lo faccio vedere al volo quindi dalla mappa del terreno noi andiamo a estrapolare delle zone dei pezzetti e ci facciamo delle cose cosa ci facciamo uno e mettiamo il Gaian il Gaian è un stable coin etica che si può usare per un sacco di cose che è il suo valore il valore di ognuno di queste monete è collegata a un metro quadro quindi noi sappiamo lo emettiamo per esempio a un dollaro e ogni metro quadro quindi si partirà da quel valore lì quello il suo controvalore sappiamo che negli ultimi due anni tutti i terreni e in particolare i terreni che non siano stati ampiamente sfruttati dall'agricoltura intensiva perché oggi il caro energia sta mettendo in ginocchio tutti i coltivatori intensivi gli allevatori eccetera ok quindi si sta passando gioco forza obbligati per bene o per male a dei modelli culturali che siano di altro tipo anche con buona diciamo contribuzione statale no eccetera i terreni naturali tendono e tenderanno sempre più ad aumentare di valore fino probabilmente dicono gli esperti ad arrivare a un punto in cui la persona media non potrà più permettersi di comprare terreni questo speriamo che sia tra un po ecco che non sia così veloce come tutti gli eventi che si stanno verificando ultimamente qui però potete vedere quindi questa è una mappa che indica in realtà gli nft ground e quindi abbiamo il gaian il gaian è una stable coin come può essere l'usdt l'usdt è tipo un bitcoin però invece che oscillare di valore il suo valore segue quello del dollaro quindi se il dollaro scende scende anche l'usdt se il dollaro sale sale anche l'usdt queste stable coin vengono ampiamente utilizzate e sono sempre più utilizzate perché stanno diventando anche un modo di investire senza doversi affidare ai sistemi bancari che ultimamente non danno affidabilità quindi se uno ha un patrimonio seguendo la bibbia del buon senso bisogna diversificare un po' qualcuno può comprare dell'oro qualcuno può comprare una casa però sappiamo che gli immobili ultimamente si stanno avvicinando alla bolla quindi con tutta probabilità andiamo incontro a anni di invendibilità o peggio anche perché gli immobili hanno dei costi fissi quindi chi volesse che diversificare anche in quel senso il Gaian è un ottimo investimento perché è come se si investisse in terreni ma non solo sotto il profilo del valore immobiliare ma anche quello del valore naturale questa è una genialità che abbiamo aggiunto che ci consente da un lato di entrare in scia senza disturbare anzi sfruttando quello che è un filone nel bene o nel male anche in questo caso noi evitiamo un commento di quella dell'economia green tanto è che il Gaian veicola anche un determinato tipo di vantaggi di benefit oltre al suo valore quindi oltre ad avere un valore che tende a salire in maniera stabile quindi non è fisso non è completamente stabile perché tendenzialmente sale è praticamente impossibile che scenda per determinati meccanismi di tokenomics che si vanno ad applicare ma anche semplicemente perché se fosse solo un pezzetto di terra il pezzetto di terra difficilmente scenderebbe di valore ma in maggior ragione Argo usa non va a prendere terreni piccoli proprio perché un terreno piccolo potrebbe essere oggetto localmente di problemi incendi sversamenti inquinamento qualsiasi cosa smottamenti o che sia anche interferenza con i vicinali con i terreni vicini invece essendo così grande se ci fosse un problema in una parte di questo appezzamento noi abbiamo altre parti di riserva che vanno a compensare il valore il valore quindi viene protetto chi quindi acquista il token Gaian oltre ad avere tutti i suoi vantaggi correlati avrà in sicurezza una parte di patrimonio che potrà tranquillamente e portare con sé sul suo cellulare sul suo wallet sul suo la sua chiavetta con i suoi codici insomma come si fa con tutte le cripto e si potrà utilizzare ovviamente anche per fare le altre operazioni che si fanno con le cripto e questo è come funziona il Gaian il ground invece segue in principio dei token non fungibili che sono gli NFT gli NFT sono dei token che essendo non fungibili vuol dire che ogni moneta non è uguale all'altra quindi una moneta potrebbe valere 10 un'altra potrebbe valere 100 per questo che sempre nell'analisi noi in maniera stratigrafica stratifichiamo la tokenizzazione cioè facciamo due tokenizzazioni come da brevetto la prima è un token fungibile il Gaian i secondi sono token non fungibili relativi in questo caso non più a un metro quadro ma a 100 metri quadri di terra quando dico relativi in entrambi i casi non può veicolare la proprietà immobiliare per una questione di notariato ok quindi quando si trasferisce un immobile bisogna per forza iscriverlo questa è una delle parti con cui Argo se parlo di Argo poi sono io negli anni mi sono confrontato anche col notariato di Milano col dipartimento informatico eccetera eccetera e non solo anche con altri notari che giustamente da anni dicono vabbè la blockchain è buona ma per trasferire gli immobili non va bene cioè chissà quali rivoluzioni a livello di notariato bisognerebbero fare ma noi in questo caso non abbiamo questo problema perché noi portiamo consegniamo a chi prende il token il valore del terreno ma la proprietà con tutti i suoi oneri e i suoi problemi rimandano in capo all'ente di tutela un vero proprio ente di tutela sotto forma di un trust peraltro offshore non lo andiamo a costituire in Italia questo trust non potrà vendere per suo atto istitutivo non so come se sapete un po' come funziona il trust comunque lo potete leggere approfondire facilmente su google e quindi il trust non potrà vendere è perfetto per non poter essere oggetto di speculazione quindi non può entrare un investitore che si compra tutto uno che vende i terreni non potrà essere fatto altro che conservarlo secondo le linee leggi da dell'atto istitutivo che è una legge per il trust ok quindi il terreni in pancia al trust vengono tutelati il trust si occupa di pagare le tasse di fare tutte queste cose e l'utente che ha comprato il token è semplicemente tranquillo a casa sua con i suoi token dentro il wallet gli nft in più sono un altro strato dove sempre utilizzando il gaian si potranno acquistare questi nft per determinate cose tra cui la possibilità di mangiare i frutti che ci sono eventualmente quindi queste questi 100 metri quadri di questo nft 1 a sopra degli olivi chi possiede l'nft attraverso internet si può far spedire il nostro portale operativo si farà spedire le frutti crude oppure lavorate in salamoia essiccate o persino spremute prante dal sottoforma di olio e vale ovviamente anche per la frutta per tante altre cose vale anche per avere accesso alle attività che ci sono dentro le argolans adesso iniziamo anche a parlare di qualcosa di più interessante vediamo se ho qualche intanto interrompo la condivisione voi avete pazienza immagino sto facendo tutto al volo dunque il terreno è un terreno bellissimo dal punto di vista naturalistico non è un terreno facilmente coltivabile chiaramente perché non è quello lo scopo lo scopo di argo non è fare un'azienda agricola l'attività agricola sarà molto presente ma sempre originale perché andremo a creare dei vivai di riproduzione delle biodiversità non so se sapete ma dovreste per esempio in sardegna ci sono centinaia di tipologie di fagioli di anguri che sono quasi tutte scomparse questo non è un fenomeno solo sardo ovviamente un fenomeno di tutto il mondo però la reintroduzione della biodiversità nel bioma del posto va fatta in accordo chiaramente agli enti per posti quindi noi abbiamo già contatti con la forestale con l'università e con altri enti locali con i quali ci non solo ci indicheranno quali specie si possono andare a introdurre anche sinergiche commestibili per fare food foresting ma anche specie che magari sono scomparse e loro stessi ci forniscono i semi per poterle rintrodurre quindi questo vale per le piante vale anche chiaramente per gli animali per gli ovini tradizionali il cavallino della giara l'asenello sardo e ci sono molti animali che possono essere introdotti veniamo anche aiutati con dei contributi che possiamo percepire tutto questo poi si riflette su chi compra l'nft di fatto perché l'nft veicola a seconda dell'nft che compri vari plus vari vantaggi che possono essere da accedere alla proprietà per notare partecipare alle feste partecipare agli eventi noi faremo anche sfruttando la particolarità di questa acquisto immobiliare che ci dà a disposizione dei locali quasi un agora e lì è perfetto perché noi avevamo già a progetto questo e quindi l'abbiamo già fatto potremmo avviare prima anche questi scambi di arti quindi sapete forse ho contatti con molti artigiani maestri anziani sardi eccetera ma ho abitato molto lì e per me sarà abbastanza agevole invitarli e quindi fare questi scambi di antiche tecniche di panificazione i vasai i formaggi e tutto quello che sia invitando giovani e anziani insomma a scambiarsi passare giornate molto nutrienti interessanti in un luogo che decisamente offshore off grid come dicono la proprietà è infatti vediamo se riesco a condividere di qualcosa vi invito anche a vedere gli altri video gli altri video qua sono le analisi che stiamo facendo usando questo sito che fa le sue posizioni mappali e in ogni caso voi potete vedere immagino l'ampiezza non so se vi rendete conto tutti questi cartellini rossi sono le decine di mappali che sono comprese in questa riserva faunistica vedete qua questa qui è l'area dell'albergo di fronte scorre il fiume vi assicuro che di persona è veramente sorprendente la grandezza di questa proprietà sono più di 700 ettari 700 ettari di cui una gran parte comprende zone inesplorate questa quest'area non è distante dal mare questo è un altro vantaggio meno di una mezz'oretta e si è vabbè non lo vedete perché internet non mi assiste quando sono in diretta vediamo se riesco a mostrarvi qualcos'altro ecco qui va bene qua abbiamo un po di foto allora devo però condividere l'altra finestra ecco qua qui abbiamo un po di fotografie le spoglio a caso se ne compaiono che non c'entrano non è colpa mia faccio quello che posso è una proprietà veramente vasta questa è solo una piccolissima parte lungo il fiume è un fiume a corso pressoché costante qui eravamo a fine maggio e il fiume prosegue per chilometri sono tutti costeggiano la proprietà addirittura sono in gran parte all'interno della proprietà vediamo se ho qualcos'altro di interessante in questa carrellata la proprietà oltre a questa grande complesso alberghiero seminuovo 3000 metri quadri stiamo parlando di abitabili ci sono anche molti altri ruderi disseminati reattabili ripristinabili cubabili eccetera eccetera per fare veramente un sacco di cose l'acqua è molto presente nella proprietà vi sono anche pozzi e sorgenti vediamo se ho qualcos'altro da mostrarvi facciamo ancora un cambio di schermo ecco qua ecco qui potete vedere un'altra immagine che mostra l'area molto dall'alto molto dall'alto di tutto il comprensorio qui si avvicina si zooma potete vedere qua dove c'è la freccia la statale che passa e attraversa la proprietà e una la struttura alberghiera dov'è qui abbiamo uno zoom della struttura alberghiera vedete la posizione rispetto alla costa è veramente vicina qua ci sono delle spiagge bellissime del sud est della sardegna qua potete vedere un'immagine della proprietà questo risale al 2016 quando era ancora aperta potete forse vedere le piscine sulla sinistra i parcheggi il complesso alberghiero eccetera e vedete anche in basso il porticato dove ci sono tutti questi locali dove andiamo poi a organizzare queste feste dell'arte feste delle arti più che dell'arte e perché no anche dell'arte la struttura è stata fatta da un architetto molto apprezzato infatti ha dei fattori determinanti di classe molto carini gli interni sono bellissimi sono già attrezzati la piscina purtroppo vi confesso che non è più in questo stato così bello è un po' da sistemare ma lì realizzeremo chiaramente una biopiscina con il laghetto è deliziosa la struttura la posizione l'aria è veramente un posto incantevole quindi su questo penso che conveniate con me vediamo se ho qualcos'altro da farvi vedere quindi quello che succede torno un attimo a noi e termino la condivisione cosa facciamo quindi ad ottobre? noi adesso portiamo avanti la strutturazione della governance di Argo della vita che oltre a me e gli Argonauti comprende anche gli Argo Angels vi do una carrellata anche di questo come faccio con il dd di schermo forse da qui ok quindi abbiamo gli Argo Angels qui state vedendo il sito di Argo in backhand quindi stiamo ancora lavorando per metterlo live con tutti i crismi la nuova versione perché su argolens.com per adesso trovate la vecchia versione quindi appena è live vi andate a leggere comunque qui spiega per esempio cos'è la figura dell'Argo Angels anche su questo potete guardare i contenuti che abbiamo condiviso apposta questa è la roadmap come potete vedere ne approfitto vedete ottobre 2022 cioè adesso attorno al 15 abbiamo l'emissione pubblica di 500.000 tokens pre-Gaian scontati al 40% con uno smart contract semplificato quindi acquisterete potete emettere direttamente nel wallet questi pre-Gaian vi danno la possibilità poi quando andiamo a emettere emissione pubblica a febbraio probabilmente anche a fine gennaio potete direttamente convertire tramite il sito i pre-Gaian in Gaian guadagnando il 40% quindi chi avesse intenzione di acquistare sappia che se mette compra 10.000 euro ma facciamo visto che costano 0,59 centesimi immaginiamo che spenda 5.900 euro di di pre-Gaian si ritroverebbe poi 10.000 euro di Gaian ok quindi una rendita del 40% in pochi mesi questo ci sentiamo di farlo perché a noi emettere questo piccolo numero di token 500.000 ci aiuta a fare raccolta di fondi per poter poter a termine in maniera efficiente tutto quello che dobbiamo fare quindi a ottobre abbiamo questo è imminente e potete tranquillamente anche lasciarci già un'email però se avete pazienza sul canale Telegram annunceremo appena il sito è online con la possibilità di lasciare l'email sul sito o persino di prenotarsi sul sito in attesa appunto della pre-vendita della pre-sale che dovrebbe avvenire attorno al 15 quindi ormai siamo agli sgoccioli ok dicembre 2022 abbiamo l'ending quindi andremo a insediarci sul posto e iniziare una serie di attività di cui ovviamente chi farà parte della grande famiglia su internet potrà seguirci e andremo a fare tutta una serie di attività di tipo amministrativo di governance oltre a degli interventi sul posto ci prepariamo creiamo tutto quello che ci serve dobbiamo trasdurre la mappa in una mappa più o meno navigabile e interattiva da mettere sul sito così poi a gennaio febbraio vedete qua in mezzo emissione pubblica di 4 milioni 500 mila tokens Gaian con smart contract definitivo di ancoraggio al latifondo quindi in questo caso i Gaian saranno effettivamente in maniera finale ogni Gaian ancorato a un metro quadro non uno specifico un metro quadro generico di questo grande latifondo e sono i token Gaian che sono i token fungibili invece i non fungibili saranno gli NFT una parte saranno già disponibili man mano che andiamo a periziare le zone a misurare anche la loro capacità di trasformare la CO2 eccetera anche nell'eventualità appunto di poterli acquistare come Carbon Credit faccio una nota stiamo anche tenendo contatti con associazioni enti che si occupano di ecovillaggi e iniziative legate agli ecovillaggi non so se vi siete accorti ma negli ultimi anni c'è una vera nevrosi verso gli ecovillaggi ma in senso positivo cioè molte persone desiderano piccoli medi gruppi di andare a condividere insieme una vita in natura però hanno problematiche ovvie che sono che tu o stai e lavori nella terra o lavori al computer infatti io adesso sono qua con voi ma forse tra qualche mese non mi vedrete più al computer perché dovrò stare da qualche altra parte no non penso che sia così imminente ma diciamo il prima possibile dunque che succede Argo che invece ha un team esperto e tanti anni di esperienza vuole offrire questo token anche per gli ecovillaggi in maniera che sostanzialmente se qualcuno ha un progetto di un ecovillaggio possa dire ok chi vuole venire qui mette 2000 euro a testa e gli do un pezzo di terra mettiamo e ognuno si prende il suo pezzo di terra che è il modello base che molti applicano che ha molti problemi comunque come modello però può capitare anche di avere delle belle sorprese chi volesse quindi potrebbe andare sul nostro sito scegliere l'ecovillaggio comprare l'NFT offerto da quell'ecovillaggio sull'infrastruttura nativa del Gaian e con i Gaian proprio comprarsi questi NFT e andare a vivere uno o un altro ecovillaggio che preferisce per quanto riguarda noi adesso vi racconto meglio finiamo la roadmap quindi ad aprile più o meno l'anno prossimo 2023 prima dell'estate in primavera ci sarà la strutturazione internazionale quindi noi andremo come vi dicevo ad aprire a costituire ma questo lo faremo prima di aprire un trust un trust offshore in un paese estero che abbia una normativa che consenta di essere intoccabile al terreno perché vai a affidarti della politica specialmente italiana non voglio entrare troppo nel merito su questo chi vuole capire capisce il terreno deve garantire a chi acquista il token che il terreno non scopare perché io compro il token e mi affido al controvalore del terreno da qualche parte deve essere custodito in maniera blindata e così facciamo quindi il goal effettivo è più o meno per la primavera quando abbiamo finito la ICO l'emissione pubblica di 4 milioni 500 mila tokens Gaian e andiamo a strutturare il tutto e avviamo poi l'operatività reale all'interno delle arguments che è chiaramente la parte più appassionante per me ovviamente chi ci lavora dentro per questo poi a giugno quando inizia l'estate faremo la prima festa l'estate con l'inaugurazione delle argolans e anche il primo inserimento dei custodi di cui vado a parlare tra un attimo qua se volete poi ve lo andate a leggere o mi fate domande ci sono come dicevo documentazioni su cos'è un Argo Angels qui vi da un'idea delle generose percentuali che forniamo perché l'Argo Angels per noi diventa parte della famiglia ed sono numeri limitati e via dicendo il sito è questo qua andiamo vi faccio vedere già che ho la pagina aperta che cosa sono gli Argonauti ma ve l'ho già detto siamo noi che ci lavoriamo quindi ovviamente non lavoriamo per darci le bastonate sugli Zebedei quindi vogliamo lavorare con passione divertendoci e abbiamo bisogno veramente di moltissime figure è chiaro che adesso principalmente quelli che stanno lavorando tranne me che faccio un po' tutto sono le persone che sono impegnate nella parte sociale divulgativa pubblicitaria e sviluppo sia internet che blockchain chiaramente quindi gli Argonauti siamo noi e chi vuole può scriverci se pensa di essere adatto a fare l'Argonauta potrebbe diventare parte del team basta che ci scrivi e poi abbiamo chiaramente i custodi i custodi delle Argonauti sono una parte molto importante perché sono persone particolarmente sensibili magari non esperti di finanza o di computer non è assolutamente necessario deve essere qualcuno che riesce veramente a avere un buon contatto con la natura e avere voglia soprattutto di fare una nuova vita andare off grid quindi all'interno delle Argonauti le Argonauti vengono affidate a pezzi a misure di Essent gli Essent sono 5-10 ettari andiamo a studiarli una volta identificati 1-2-3-5-10 Essent andiamo a affidarli ai custodi che intanto si sono candidati quindi i custodi ma va attraverso una candidatura ci scrive le candidature le apriremo più o meno ad aprile secondo la roadmap che vi ho fatto vedere e alcuni chiaramente sono già pronti ad entrare perché ormai sono un po' di anni che abbiamo siamo sulla breccia ok e i custodi vivono nelle Argonauti vivono perennemente nelle Argonauti non sono interessati a uscire nella loro socialità è con le altre custodi che vivono sempre nell'Argonauti siccome sono terreni molto grandi in una zona con tutta probabilità ci sarà molta più gente di quanto di solito non si trova in un ecovillaggio è anche più diversificata senza contare che le Argonauti nelle zone meno diciamo addentro perché sono delle riserve quindi ci sono zone ampissime magari che richiedono due giorni di cammino per raggiungerle ma nelle zone più comode andremo ovviamente a fare moltissimi eventi diversificati abbiamo degli accordi per dare l'ultima dimora dignitosa ai cavalli da corsa per esempio le persone non sanno dove mettere il cavallo dopo che l'hanno stressato e di solito lo abbattono e sono disposti ovviamente a pagare ma cifre incredibili perché per tenere questo cavallo noi vogliamo dargli la possibilità a questi cavalli di essere liberi e quindi affideremo delle zone saranno attribuite a questo scopo poi faremo chiaramente molte attività per i bambini e anche per gli anziani con la tendenza a volerli riunire tra loro e un'altra parte che è molto importante chiaramente per noi è anche l'educazione dei ragazzi più che educazione è proprio il risveglio alla natura dei ragazzi e ragazzini quindi faremo di shaming camp che saranno dei camp estivi magari eccetera dove i ragazzi saranno coinvolti oltre che nell'attività anche nella vita molto un'esperienza incredibile nella natura tra le varie cose che facciamo ok quindi questi sono i tre ruoli il Largo Naut Largo Angels e il Custode cosa abbiamo in corso adesso adesso a brevissimo come vi dicevo si va vado in Sardegna incontro vari funzionari anche degli antilocali portiamo a termine l'acquisto quindi in questo video voglio da un lato aggiornare tutti quelli che stanno seguendo dicendo uno che il 15 ottobre attorno al 15 ottobre metteremo a disposizione i pregaian chi volesse prenotarlo potrà farlo anche qualche giorno prima probabilmente dall'1 al 2 ottobre sarà live il nuovo sito è quello che vi sto mostrando in anteprima adesso chiudo la condivisione così mi vedete meglio dunque il 15 ottobre noi più o meno faremo questo adesso a fine mese andiamo a perfezionare l'acquisto attorno a fine novembre metà dicembre avremo ultimato tenteremo anche di chiuderlo prima quindi se vi interessa acquistare dei pregaian vi consiglio di farlo in fretta noi prima lo concludiamo prima andiamo avanti per l'interesse di tutti chi invece fosse interessato a lavorare con noi ci scrive chi fosse interessato a collaborare a diventare partner può essere un ente un'associazione un vlogger qualcuno che opera nella blockchain qualcuno che opera negli ecovillaggi vi sono molte gli allevatori anche abbiamo adesso non non lo condivido ma è circolato un messaggio proprio di un nostro amico che non ha più potuto partecipare al progetto ma lui da allevatore aveva già fatto delle misure molto buone quindi anche degli allevatori che stanno meditando di chiudere per disperazione perché i mangimi sono quadruplicati di costo e i trasporti sono quadruplicati di costo e il loro business model non regge piuttosto che dover vendere o abbattere le bestie direi che le possono mettere a dimora parcheggiare diciamo nelle argolans magari fino a che la tempesta non finisce probabilmente tra qualche anno la situazione economica sociale si presume che si vada a stabilizzare in qualche modo di solito succede così però bisogna passare la notte quindi passare questo momento l'idea di fare Pascolo Brado consente di avere un'ottima contribuzione e potrebbero diventare nostri partner nel divertirsi anche a sviluppare applicare metodi meno invasivi e più rispettosi di allevamento sfruttando i vasti territori che il terreno che stiamo comprando offre quindi questo è l'altro aspetto poi noi andremo adesso entro il 15 a chiudere il board degli Angels il board degli Angels è una specie di board laterale del CDA il CDA sono tutti soci del progetto Argo ci sono io ci sono altri 3 o 4 amici in più ci sono i 5 o 6 amici del board degli Argo Angels gli Argo Angels mettono delle somme non enormi però possiamo dire dai 5 mila euro in su fino a un massimo di 20 25 mila euro si potrebbe anche arrivare di più però indicativamente rimane un po' questo equilibrio quindi chi volesse investire qualche piccola somma diventare parte del board degli Argo Angels deve scrivermi subito nel senso che da qui a massimo il 15 noi ci troviamo per forza di cose nell'obbligo di chiudere questo board che poi rimarrà permanente in tutte le attività che faremo nel futuro quindi gli Argo Angels rispetto al nostro partner economico che può essere un investitore che vuole investire nel progetto ha un ruolo molto diverso perché l'Argo Angels è presente molti Argo Angels desiderano anche trascorrere del tempo magari non sempre ma del tempo nelle Argo Angels con la famiglia con i figli con magari il papà o la mamma anziani hanno un interesse hanno una sensibilità e comprendono in profondità perché stiano facendo questa cosa e apprezzandolo partecipano volentieri e partecipano guadagnandoci perché queste piccole somme che investono gli ritornano in pochissimi mesi quindi di fatto l'investimento che vanno a fare rimane scoperto soltanto forse non più di tre mesi dopodiché oltre ad aver recuperato ciò che hanno investito avranno la possibilità chiaramente di chiedere la custodia diventare custodi e ottenere gratis l'affidamento di un Essen potranno prendere parte sin da subito l'operatività di installazione dell'headquarter quindi siamo lì iniziamo a predisporre gli orti le trasformazioni agrarie la floro vivaistica la marea di roba dobbiamo fare quindi andremo un pochino ad espanderci chi avesse piacere chi ritenesse che una nuova vita in una misura più ampia e sana salubre chi ritiene che questa cosa sia interessante si avvicina molto facendo l'argo edges cioè chiaro io sono più vicino ancora chi come me da anni sta lavorando è chiaramente parte del team ma gli argo edges sono a loro volta un board privilegiato che avrà sempre la possibilità di accedere passare del tempo partecipare in maniera prioritaria tutto quello che facciamo e avrà un guadagno del 20% quindi in pochi mesi otterrà una rendita del 20% in più il 20% di quello che investe quindi se investisse 10.000 euro gliene arrivano 12.000 ok in risposta potrà decidere poi se convertire una parte di questo rendimento in NFT eccetera poi leggete meglio in dettaglio come è fatto Largo Angels così non siamo approssimati se vi interessa oppure mi scrivete e avrà anche una percentuale non indifferente su tutti i rendimenti che questo progetto comunque produce perché questa è la prima acquisizione le prossime le andremo a fare probabilmente anche all'estero anche proprio per iniziare a disseminare dei point di questo tipo che assieme a tutti gli ecovillaggi che entreranno nel circuito adottando il Gaian come moneta di scambio interna perché ricordo il Gaian è anche eccezionale come food token cioè è una stable coin che non è soggetta all'inflazione perché siccome si collega non al valore del dollaro il dollaro potrebbe perdere il potere d'acquisto voi sapete cosa è l'inflazione se c'è l'inflazione vuol dire che prima serviva un dollaro per comprare una cipolla dopo servono dieci dollari per comprare una cipolla ce li avete? beh, beati voi se avete dieci dollari per comprare una cipolla non vi interessa quello che stiamo facendo per siccome molte persone invece sono non soltanto gente magari con pochi soldi ma anche persone capitalisti sono molto preoccupati della perdita di potere d'acquisto il Gaian protegge anche da questa cosa se poi sempre basato sull'infrastruttura nativa del Gaian sviluppiamo dei token nativi locali basati con uno smart contract su un paniere di prezzi dei prodotti di prima necessità del mercato locale quello significa che in quel posto lì se tu ti scambierai il cibo usando il food token Gaian anche se il resto del mondo inizierà a pagare 100 dollari una cipolla tu continuerai a pagarle nello stesso modo perché il valore del token seguirà il valore della cipolla e se la cipolla vale un euro al chilo lui varrà uno mettiamolo quando la cipolla costerà 10 euro al chilo lui varrà 10 quindi tu ne userai sempre uno di food token per comprare la stessa cosa e questo è solo uno dei lati del progetto abbiamo lo sviluppo delle case passive delle cueva che sono molto interessanti e sono basate sulla scienza dei geopolimeri una scienza antica fenicia sviluppata dal professor Quarnetti è venuto a mancare da poco abbiamo lo sviluppo di tutte le attività collaterali alla trasformazione alimentare e anche quello molto interessante ci sono gli eventi spirituali quindi i ritiri i detox gli eventi con il suono gli eventi al buio le escursioni profonde nella natura vivacchi escursioni e infinite cose che andremo a fare che probabilmente vengono in mente anche a tutti voi quindi la terza cosa che volevo dire era che il board degli Argo Angels si chiude se avete intenzione anche una mezza intenzione non fatevi il problema mi iscrivete e capirete meglio se siete dei nostri o no e farete parte del board degli Argo Angels che è anche molto utile come una funzione consultiva perché io che sono da tanto tempo nel progetto magari poi adesso per esempio mi sembra ovvia qualche cosa e finisco con non spiegarla correttamente quindi una voce esterna un consulto capito un suggerimento un consiglio anche proveniente magari da ambiti professionali differenti per me è sempre prezioso e questo è un altro aspetto che affido al board e ultima cosa cosa potremmo dire ok quindi chiuso poi il board degli Argo Angels noi avremo una struttura aziendale che si baserà su una start-up una start-up un SRL in Italia l'SRL in Italia ovviamente rispeccherà tutta la ripartizione delle quote il terreno verrà prima intestato l'SRL e poi in un secondo tempo quando andremo offshore l'SRL verrà inglobata dalla holding dalla trust stessa cosa faremo poi nei paesi stranieri questo modello molto applicabile molto interessante che abbiamo studiato insieme ad avvocati esperti in appunto gestione anche e soprattutto del mercato delle crypto uno dei nostri amici è un'altra azienda che sta sviluppando un progetto crypto che anche loro hanno una token collegato a un controvalore il loro controvalore è di un altro tipo ma la strutturazione da quel punto di vista è simile e quindi abbiamo avuto anche il piacere di poter usufruire di questo espertismo importante legato proprio direttamente al settore specifico di questa cosa quindi restate sintonizzati se vi va se vi piace io mi scuso con chi magari mi ha visto un po' assente per le mie tematiche diciamo spirituali antropologiche che ho sempre portato ma tempo permettendo un po' grezzo magari ogni tanto però vi riporto comunque qualche impressione se invece volete partecipare appunto e conoscere meglio la questione iscrivetevi al canale o scrivetemi va bene ci vediamo presto e nel canale poi pubblicherò anche gli aggiornamenti con qualche anche video mio dei ragazzi del team che andremo a incontrarci primariamente in Lombardia e poi ci rivedremo in Sardegna e vi farò magari condividerò qualche video qualche contenuto qualche film vi saluto a tutti ci vediamo presto nelle Argoland